Allora, a questo punto io inizio un po' a dare la parola a Pierfrancesco Burrato. Ci presenta un lavoro dal titolo Analisi integrata delle banche dati DIS e ITEGA, casi studi in aree offshore. Parco, puoi iniziare. Hai a disposizione 15 minuti più 5 per la tua discussione. Sì, grazie. Confermatemi, vedete schermo pieno, la presentazione. Ok, grazie. Allora, questa mia presentazione, io faccio parte del gruppo di editori di questo mini-workshop e abbiamo deciso di mettere all'inizio questa presentazione, che non è proprio specificatamente dedicata alla geologia marina, però poteva essere utilizzata per trovare argomenti di discussione per la parte finale del workshop. Vi presento un progetto che sta partito nel 2016, finanziato dal Dipartimento della Protezione Civile e coinvolge sia l'Ingv, io sono ricercatore dell'Ingv, sia l'ISPRA, i coautori di questo lavoro, sono numerosi colleghi dell'ISPRA. E in particolare, diciamo, il progetto coinvolge due database esistenti, uno gestito da l'Ingv, delle sorgenti sismogenetiche, e un altro gestito dall'ISPRA, che è il database delle famiglie attive e capaci. Questi due database hanno delle affinità fra di loro, hanno delle somiglianze, ma anche delle differenze, e sostanzialmente sono principalmente utilizzati l'uno, parlo del DIS, per, diciamo, dati di input per la pericolosità sismica, mentre ITACA è utilizzato soprattutto come dati di input per la pericolosità da fagliazione superficiale. I database, ovviamente, nascono a terra, perché, diciamo, studi di tetonica attiva nascono sulla terra, perché sono in Italia, soprattutto, a seguito del terremoto del 1980, perché, ovviamente, l'ambiente è quello più facile da esplorare, anche quello meno, come si dice, sono studi meno costosi rispetto ai studi effettuati nell'offshore, però, ovviamente, vedremo che questi database interessano anche aree marine, aree completamente offshore, oppure aree marine costiere, interagiscono con infrastrutture, potrebbero interagire, gli elementi dei due database potrebbero interagire con infrastrutture sia costiere sia offshore, per cui è importante sviluppare una relazione fra questi due database e la comunità di geologi marini, con cui, diciamo, è presente oggi a questo workshop. I due database sono raggiungibili dai loro siti internet, non mi soffermo molto, ma penso che quasi tutti li conosciamo. Quali sono gli oggetti contenuti, diciamo, nei due database? Allora, l'uno, sorgenti sismogenetiche, per cui database DIS, contiene specificatamente delle faglie attive, primarie, ritenute in grado di generare terremoti di magnitudo perlomeno 5-5, cioè terremoti in grado di, diciamo, dare un input nell'hazard sismico. Il database ITACA contiene non solo, diciamo, queste faglie primarie che poi possono essere sorgenti sismogenetiche e nel caso interagissero con la superficie diventerebbero delle faglie capaci, la definizione faglia capace è quella di una faglia che è in grado di dislocare e la superficie terrestre oppure di deformarla, cioè generare zone di sollevamento e di subsidenza. Il database ITACA, per cui, contiene non solo le tracce delle faglie primarie, per cui sorgenti sismogenetiche, ma contiene anche tutto una pletora, una famiglia di faglie capaci, faglie attive e capaci, che però non sono sismogenetiche perché sono faglie secondarie, cioè possono essere delle strutture collegate alla struttura principale, primaria, oppure possono essere anche strutture totalmente scollegate che si attivano durante i terremoti con vari meccanismi. È importante conoscere queste faglie, anche se non generano terremoti, perché ovviamente loro possono interagire con le infrastrutture, che possono andare semplicemente da una strada, oppure qua siamo nel caso della sequenza sismica del 2016, per esempio c'è una galleria di una strada statale che è stata dislocata da una faglia secondaria. Oppure, come è successo per esempio nel caso del 2009 terremoto dell'Aquila, una faglia primaria ha dislocato una condotta di un acquedotto, dell'acquedotto del Gran Sasso, generando diciamo un danno abbastanza notevole. E le faglie, mentre diciamo per le faglie primarie, considerate sorgente sismogenetiche, il meccanismo di attivazione è un meccanismo di tipo tettonico, per cui c'è il carico tettonico, queste faglie arrivano a rottura, si muovono in generale terremoto. Per quanto riguarda le faglie superficiali capaci, loro diciamo possono essere classificate secondo ranking diversi, cioè sono delle faglie primarie, nel caso loro diciamo siano l'espressione superficiale della faglia primaria, per cui della faglia sismogenetica, oppure possono essere delle faglie secondarie variamente collegate alla faglia primaria, variamente collegate dal punto di vista strutturale. Appartengono alle faglie capaci anche tutta un'altra serie di faglie, per esempio possono esserci delle faglie ereditate che si riattivano durante i terremoti a causa del campo di deformazione, delle faglie che si riattivano con meccanismi bending moment oppure con rottura simpatetica, oppure anche rotture indotte dallo scuotimento, per cui c'è il passaggio delle onde sismiche. Nel DIS, ricordiamoci, il DIS contiene solamente le faglie ritenute di ordine gerarchico principale, perché sono quelle che generano terremoti, mentre ITAC contiene tutti gli ordini gerarchici. Questo termine gerarchia poi ricorrerà in questa presentazione, perché per noi è un aspetto importante per lo studio delle faglie attive e caraciche. Il frutto dell'attività di questo progetto ha portato allo sviluppo di un visualizzatore web, dove riportiamo sia le sorgentesi smogenetiche del DIS, rappresentate qua in arancione, sia le faglie attive capaci di ITACA, rappresentate con due colorazioni di blu e di verde. Qual è la differenza? La differenza è che le faglie verdi, le attive capaci di ITACA verdi, sono le faglie che sono collegate in qualche maniera, strutturalmente o cinematicamente, alle sorgentesi smogenetiche, per cui sono ritenute in grado di riattivarsi nel momento che la sorgente sismogenetica considerata genera il terremoto. L'obiettivo proprio di questo progetto era quello di trovare le relazioni fra sorgenti sismogenetiche e queste faglie attive incapaci. Con quale approcci abbiamo definito queste relazioni fra faglie attive capaci e sorgente sismogenetica? Qua vediamo un esempio del centro Italia in cui è rappresentata la sorgente sismogenetica del FUCINO del 1915, con tutta una famiglia di faglie attive capaci mappate nel corso degli anni in quest'area. Come abbiamo cercato di capire quale di queste faglie attive capaci è collegata alla sorgente sismogenetica, per cui è la faglia principale? Utilizzando diversi approcci, però alla fine l'approccio vincente è stato quello dell'utilizzo di relazioni empiriche. Relazioni empiriche che sostanzialmente derivano dall'osservazione di fagliazione superficiale avvenuta in occorrenza di terremoti, per cui si è visto che durante i terremoti generate faglie con diversa cinematica non solo c'era la possibilità che la faglia principale venisse in superficie ma c'era anche la possibilità che tutta una serie di faglie secondarie che si attivassero. In particolare queste relazioni empiriche sono state sviluppate a scala globale considerando diversa cinematica delle faglie, per cui abbiamo relazioni empiriche per faglie trascorrenti e relazioni empiriche per faglie normali, distensive e faglie inverse. La differenza diciamo è fra che faglie inverse e faglie normali sono considerate delle faglie deep sleep, cioè delle faglie con certo angolo di immersione, per cui si considerano tutte e due blocchi separati dall'emersione a faglia principale, mentre faglie trascorrenti sono faglie ad alto angolo, per cui le relazioni empiriche mostrano che la probabilità di fagliazione è uguale nei due blocchi, cioè copre delle aree di stessa estensione sia nel blocco per la mattinata e per il blocco nord. Cosa mostrano queste relazioni? Mostrano delle curve in cui l'asse orizzontale rappresenta la distanza dall'emersione della faglia principale e sostanzialmente è una curva in cui c'è la probabilità di occorrenza di fagliazione superficiale durante terremoto. Questa probabilità decresce molto rapidamente allontanandosi dall'emersione della faglia principale indicata con lo zero nell'asse orizzontale e un'altra caratteristica è che nelle faglie deep sleep, a differenza delle faglie trascorrenti, i due blocchi hanno probabilità di riattivazione di faglie secondarie o primarie differenti. In particolare il blocco di Engiwall sia nelle faglie normali che nelle faglie inverse è un blocco dove è più probabile che si attivino delle faglie capaci per cui che tagliano la superficie, mentre nel blocco di footwall praticamente la probabilità decade quasi a zero entro poche centinaia di metri se non massimo uno o due chilometri dall'emersione della faglia principale. Questa è un po' una rappresentazione che ci fa vedere come la probabilità appunto alla stessa distanza, dieci chilometri di distanza nel Engiwall è molto più alta rispetto alla probabilità nel Fagliwall. Tutto questo ci ha portato appunto a definire dei buffer attorno all'emersione delle sorgenti sismogenetiche e questi buffer poi sono stati utilizzati in ambiente GIS per collezionare, collegare diciamo tra le attive e capaci con le sorgenti sismogenetiche. E uno sviluppo che tenteremo di fare è questo per esempio una rappresentazione della probabilità di riattivazione. vedete che la probabilità è collegata al colore rosso nel Engiwall e blu nel football e vedete come allontanandosi sostanzialmente dall'emersione della faglia principale rappresentata dal rettangolo giallo la probabilità decresce rapidamente diciamo con la distanza. I due database contengono elementi anche in mare queste sono rappresentate in questi cerchi rosa per database Italia confrontato qua sulla testa con un database di infrastrutture in aree costiere del ministero e dell'Unimig e anche il DIS contiene faglie sorgenti sismogenetiche a mare per cui questo problema diciamo di mappare sorgenti sismogenetiche e faglie attive e capaci esiste anche diciamo nell'area marine proprio perché per la conformazione diciamo della nostra isola. Sorgenti sismogenetiche ma anche faglie attive e capaci di utilizzare per esempio il modelling del hazard da tsunami. Cinque minuti parlo. Da dove possono venire diciamo possibili fonti di aggiornamento per i due database? E qua ho una brevissima carrellata di alcuni progetti per esempio la scala la carta geologica ai mari italiani il progetto MAGIC vedete sono tutti comunque diciamo progetti che non hanno una copertura completa dell'area offshore italiane ultimamente c'è stato il progetto SPOT che è stato proprio concentrato su alcune zone caratterizzate dalla presenza di infrastrutture aggiornamenti aggiornamenti possono venire anche tra lavori singoli per cui abbiamo per esempio dei procedi oceanografiche poi arrivano a pubblicare i loro dati e possono fornire dei contributi per diciamo la conoscenza delle faglie attive e capaci ma anche delle sorgenti smogenetiche in aree offshore in conclusione diciamo studi tettoniche qual è la differenza fra gli studi sviluppati a terra e studi sviluppati a mare principalmente gli studi sviluppati a terra si passano diciamo su rilevamenti diretti di campagna usano in maniera limitata la geofisica usano molto la morfotettonica per cui l'analisi di come la geomorfologia diciamo cambia a causa dell'azione delle strutture tettoniche e usa molto la paliosismologia e c'è una certa facilità diciamo nel campionare di avere campioni con datazioni assolute e d'altro lato diciamo a terra molto raramente si hanno sequenze sedimentari complete inoltre l'azione diciamo degli agenti esogeni maschera molto l'attività delle faglie qual è la conseguenza la conseguenza è che a differenza che a mare a terra generalmente prima di un terremoto è molto difficile mappare delle faglie attive capaci bisogna avere diciamo un occhio molto molto specifico a mare invece succede al contrario si vede di tutto per cui un rilievo geofisico fatto a mare porta a condizioni diciamo di molte strutture la paleosismologia non è solo pertinenza a terra ma esiste anche la paleosismologia offshore ovviamente sviluppata con metodologie diverse rispetto a quelle a terra ed è comunque una disciplina relativamente giovane il primo lavoro che diciamo ho trovato risale più o meno del 2009 però potrei averne perso qualcun altro di solito si è sviluppata in ambiente di zone di sostituzione per cui collegate grandi terremoti di sostituzione il problema della mappatura vedete questa è una mappa che è un po' storta girata comunque la zona è di centrale del terremoto del 2016 prima del terremoto sostanzialmente le mappe le faglie attive e capaci mappate erano queste due strutture evidenziate il giorno del terremoto si sono attivate tutta una serie di faglie secondarie antitetiche sintetiche la struttura principale che nel complesso hanno formato quello che si chiama il distributed folding e sto chiudendo la differenza a mare è questa questo è un esempio di un golfo di San Teofemia dove utilizzando diciamo della sismica multiscala si vedono strutture molte strutture diciamo con la sismica ad alta risoluzione e il numero di strutture man mano diciamo identificabili diminuisce contando con l'alta penetrazione combinando i due ovviamente si si determina che si possono trovare ordini trattici delle faglie diversi strutture primarie che potrebbero fare terremoti strutture secondarie oppure addirittura terzo ordine che comunque dislocano il fondo mare una cosa interessante da discutere sarà l'intervallo temporale di attività delle faglie considerate che nelle zone di interfacca le faglie attive capaci secondo le indicazioni della IAEA sono quelle che dislocano orizzonti di età inferiore a 125 mila anni a confronto qua abbiamo un esempio nel Marionio dove con la sismica ad alta risoluzione si riconoscono unconformiti di età diciamo numerose unconformiti per cui c'è un dettaglio molto rilevante sul possibile dettaglio sull'attività delle faglie e questo è l'ultima slide che potrebbe essere utilizzato diciamo in conclusione della sessione per la discussione di un possibile approccio multiscale multidisciplinare per parametrizzare geometricamente e cinematicamente sia le faglie attive capaci sia le sorgenti sismogenetiche non lo discuto adesso magari lo possiamo modificare fuori la sessione questo è il gruppo di lavoro con cui collaboro sia del DISS che di ringrazio